Sashi, ci siete? Ok, dai! Stai muto, partaci giù, e non ti facciamo niente! Ma che hai fatto? Si è ammazzato! Ma dentro tutte e tre? Ma che cazzo hai fatto? Oh! Abbassate le storie! Ma perché l'hai fatto? Che facciamo adesso? Abbassatele! Abbassatele tu! Te lo sei scopato tu, Lorenzo mio? Che cazzo sei? Me lo ha detto lei! Deglielo un po' Deglielo quello che ha detto a me La buzzicola! Se l'hai scopata dopo di te! Ma io non so di che cazzo stai parlando! Tu sei tutta scema! Siamo amiche della vita! A me l'uomo tuo mi fa schifo! Si va bene! Lo so scopato l'uomo tuo! Perché l'uomo tuo è un gran figlio e una mignotta e noi siamo delle gran troie! Vabbè? Adesso lo sai! Te sta bene? Ammazzami! Ammazzami Giné! Ammazzami! E che favo ora? Non lo so! Andiamo a farciare la pietretta eh! Ma va? Ok! 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 Ok!